Si torna in aula il campus universitario di Arezzo, c'è ancora paura, ci racconta uno studente, ma c'è tanta emozione, allora andremo a capire come appunto nel rispetto delle normative anti-Covid stanno riprendendo le lezioni anche qui all'Università di Arezzo. Come ci si sente a tornare in presenza all'Università? Certamente l'impatto non è semplice, ma è veramente bello, perché alla fine uno può riabbracciare, rivedere i propri colleghi e soprattutto i propri docenti. La distanza ha tolto purtroppo la possibilità di poter relazionarsi soprattutto con i docenti. So che oggi è la prima mattina di ripresa, non siete in tantissimi, c'è ancora paura ad essere in presenza? Non siamo in tantissimi, c'è ancora paura, però c'è tanta voglia di ripartire. Riuscite a rispettare rispetto ai locali, rispetto insomma alle condizioni anche di lezione e di studio le norme di sicurezza? Sì e cerchiamo di fare il meglio per poter rispettare questa nuova possibilità di poter ripartire. Sì, ecco diciamo che da oggi è possibile frequentare in presenza le lezioni e in tutta sicurezza. Sicuramente quello che ripetiamo è prudenza, prudenza e attenzione ai comportamenti individuali affinché questo momento di ritorno in presenza venga avvalorato e possa veramente essere la fine di un tunnel. Abbiamo verificato con le nostre telecamere, insomma ci sono ovviamente dei numeri per ogni aula rispetto anche alle zone del campus universitario e poi lei ci spiegava ci sono materie che comunque ancora ad oggi possono essere eseguite a distanza, altre ovviamente no. Certo, nei mesi scorsi grazie alla didattica online abbiamo avuto l'occasione di coinvolgere studentesse e studenti di continuare il loro percorso formativo con attività, lavori di gruppo, progetti. Oggi è importante tornare in aula, sicuramente la frequenza in aula verrà affiancata anche da tutte le piattaforme che l'Ateneo mette a disposizione e che possono appunto supportare come diceva le diverse materie quindi lezioni in streaming ma anche attività partecipative online.